Martedì 15 settembre abbiamo avuto il nostro primo contatto con il nuovo proiettore laser 4K BenQ V6050 a tiro ultracorto. La prima dimostrazione ha avuto luogo da Hi-Fi di Prinzio su schermo motorizzato Vivid Storm con superficie ALR ovvero Ambient Light Rejection. Gli schermi ALR riflettono solo la luce del proiettore e assorbono la luce che arriva da tutte le altre direzioni e l'unione di un proiettore UST con uno schermo ALR è specifico a fare la differenza. Il massimo delle prestazioni si raggiunge però sempre al buio. Con luce accesa però l'effetto è dannatamente simile a quello di un gisignettesco TV. Ecco perché li chiamano spesso Laser TV. Nel pomeriggio ci siamo teletrasportati a Roma da Gruppo Garman dove abbiamo assistito ad un improbabile confronto tra BenQ, Optoma ed Epson. Tutti i proiettori Laser TV 4K a tiro ultracorto. I proiettori sono stati messi fianco a fianco a turno sempre davanti all'ottimo schermo Vivid Storm con superficie ALR. C'è da sottolineare che soltanto il BenQ era stato tarato approfittando del test che abbiamo effettuato la mattina. Da Garman invece Optoma ed Epson erano assolutamente out of the box ed è questo che ha fatto la differenza specialmente tra Optoma e BenQ. Il primo comunque con colori decisamente più profondi ma leggermente meno luminosi e con livello del nero assoluto ancora più basso rispetto al BenQ grazie probabilmente al dispositivo Dynamic Black presente nell'Optoma e assente invece nel BenQ. Se il BenQ tarato ha convinto di più soprattutto per colorimetria e dettaglio l'Epson è risultato quello più indietro sia come rapporto di contrasto ma anche come risoluzione e dettaglio colpa sicuramente di una messa a fuoco che sugli angoli si è rivelata meno precisa soprattutto rispetto al BenQ. Per un giudizio super partes è necessario un test approfondito in laboratorio. L'Optoma è già in redazione mentre BenQ ed Epson seguiranno a breve.